Siamo a Cambiago davanti al palazzo dell'amministrazione comunale con noi candidato sindaco per il centro-sinistra Silvano Brambilla. Sindaco uscente, facci un bilancio di questi cinque anni di amministrazione. Sono stati cinque anni molto partecipati, abbiamo raccolto molte forze, molte associazioni, abbiamo fondato anche delle associazioni nuove. Una delle prime cose che abbiamo fatto è rifatto la convenzione con l'ente morale che prima era stata interrotta, abbiamo rilanciato l'asilo scuola materna, abbiamo rifondato la scuola materna comunale, siamo riusciti a statalizzare ben cinque sezioni, quasi la totalità, abbiamo rinnovato il tetto della palestra, abbiamo fatto due impianti fotovoltaici e molte altre cose che adesso è anche difficile proprio elencare. Diciamo, quello che è il punto significativo secondo me è proprio la partecipazione della gente. Io lo vedo un dato su tutti, i ragazzi che fanno sport a Cambiago, che sono più che triplicati rispetto a cinque anni fa, è una scuola di musica che prima non c'era, che oggi raccoglie quasi cento bambini. Dopo cinque anni di amministrazione che oggi come oggi è faticosa, a me piace dire che chi fa il sindaco sta in trincea, perché chi deve rispondere direttamente ai problemi, alle domande dei cittadini. Perché hai scelto di ricandidarti? Noi cinque anni fa siamo partiti con molto entusiasmo, un gruppo completamente nuovo. Dopo cinque anni siamo uniti, compatti e ci ripresentiamo con le stesse facce, più alcuni giovani molto motivati e presenti nelle associazioni. Abbiamo iniziato diversi progetti e vogliamo continuarli e concluderli. Hai usato l'aggettivo uniti, significa che il centro sinistra ha maturato in questi anni la capacità di superare magari legittime differenze per convergere su un progetto comune per il paese. Certo, proprio uniti. Il gruppo che compone l'amministrazione è veramente unito, contrasti in questi cinque anni non ne abbiamo avuti e siamo molto vicini e gli intenti e i modi di fare sono veramente validi. Abbiamo visto un sommario bilancio dei cinque anni che stanno passando, diamo uno sguardo adesso verso il futuro, quali sono i punti fondamentali del tuo programma per Cambiago? Allora uno sarà la viabilità e soprattutto la viabilità di passaggio, quindi evitare che le macchine che vanno verso nord, verso sud, cioè quindi che attraversano il paese abbiano una circonvaluazione. E poi interverremo sui sensi unici la viabilità interna. L'altro punto importante è Torrazza, non ha punti di aggregazione e punti di ritrovo. Abbiamo già nel piano delle opere una farmacia con ambulatori e un punto di ritrovo per Torrazza, la frazione. Altra cosa ancora, abbiamo qualche problema sui torrenti che attraversano il paese. Abbiamo fatto il monitoraggio di tutto il percorso e uno degli obiettivi è proprio quello di risanare i torrenti. Un appello a questo punto di pochi secondi ai cittadini per dir loro perché devono rinnovare la fiducia a Uniti per Cambiago e al candidato sindaco Silvano Brambilla. Abbiamo lavorato molto sulla partecipazione, i feedback che io ho dalla gente sono positivi e quindi vogliamo portare al termine il progetto che abbiamo iniziato cinque anni fa. Bene, grazie allora in bocca al lupo soprattutto a Silvano Brambilla, anche qui a Cambiago vedete ci sono tutte le condizioni e i presupposti perché si possa andare alle urne con un progetto significativo, credibile e ci auguriamo naturalmente vincente. Grazie a tutti.